In seguito alla decisione presa dal comune di Fiumara e dal sindaco Vincenzo Pensabene di chiudere l'accesso alla strada a scorrimento veloce che giunge a San Roberto attraverso l'ordinanza che blocca la circolazione lungo le vie torrente San Nicola e 28 ottobre e dopo l'invito ricevuto a partecipare ad un incontro che si terrà sul tema della viabilità, la neocostituita associazione sociopolitica Cambiamenti per voce del suo rappresentante Roberto Vizzari, già sindaco di San Roberto, precisa quanto segue. Pur apprezzando il tentativo fatto dal professor Antonino Micari, si legge in una nota che ha inteso promuovere un incontro con l'amministrazione comunale di Fiumara sul tema della viabilità informiamo che nessun membro della nostra neocostituita associazione Cambiamenti sarà presente all'incontro e che non è nostra intenzione al momento sederci ad alcun tavolo di confronto, almeno fino a quando questi blocchi, anche di tipo ideologico, inutili e dannosi non verranno rimossi. Siamo invece al lavoro già da stamattina per fare in modo che venga ripristinata al più presto la viabilità lungo la strada a scorrimento veloce ed auspichiamo che questo possa avvenire quanto prima, così come ci auguriamo che si possa tornare a instaurare un dialogo che negli ultimi anni è stato sempre efficace e proficuo nell'interesse dei cittadini di entrambe le comunità.